Balzo elettivo e di preferenze per Lega Nord in Toscana che in tre anni è diventato il secondo partito della nostra regione. Nel 2013 solo lo 0,6% degli elettori aveva scelto la Lega, adesso il salto. Il 16,6% dei toscani ha votato per il partito del Carroccio. La tornata elettorale dello scorso giugno ha portato alla Lega il primo sindaco in Toscana, Susanna Ceccardi, eletta a Cascina insieme alla sua squadra. Ma c'è anche un eurodeputato, sono invece 45 consiglieri comunali in tutta la Toscana, soprattutto nella provincia di Pisa, Grosseto, Arezzo, Pistoia e Lucca. Ma ci sono anche sei consiglieri regionali ed è quadruplicato il numero degli iscritti. Ma come ha fatto la Lega a raccogliere tutto questo consenso nella rossa Toscana? Abbiamo una linea politica chiara su Europa, su immigrazione, su economia e questo fa sì che il nostro messaggio venga ben capito perché è semplice e comprensibile dai cittadini e speriamo presto anche da tutti gli elettori. Ma la sfida sarà il futuro. Lega Nord Toscana è già infatti proiettata verso le elezioni regionali del 2020. Siamo giunti al momento di far dimostrare ai toscani che non siamo solo no, 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 ma siamo una forza alternativa con delle proposte concrete. Faremo una proposta concreta sul turismo, sull'ambiente, sull'occupazione, sul sistema delle piccole e medie imprese, su qual è la nostra visione di Toscana. In occasione della conferenza stampa è stato inoltre annunciato il passaggio da Forza Italia a Lega Nord da parte di Gabriele Genuino, consigliere comunale a Fucecchio.